Grazie, signor Presidente. Signori deputati, per la prima volta presento in aula la relazione annuale sull'amministrazione della giustizia e le linee di intervento che ispirano l'azione del Ministero e del Governo. Vorrei in premessa rivolgere il mio sentito ringraziamento al Presidente Merito della Repubblica, Giorgio Napolitano. Infatti la sua preziosa opera di garante degli equilibri istituzionali e la sua costante attenzione ai temi della giustizia hanno costituito in questi anni una straordinaria fonte di ispirazione e uno stimolo ad affrontare con determinazione gli aspetti più problematici di questo delicato settore. Il suo lavoro e le sue indicazioni credo che ancora oggi possano continuare a rappresentare un forte incoraggiamento per la prosecuzione degli interventi riformatori che in quest'anno abbiamo iniziato.